E' la sesta giornata ma i punti in palio sono già fondamentali, logica conseguenza del format ridotto del campionato di eccellenza pugliese con il solo completamento del girone di andata utile per decretare i verdetti in quota promozione e retrocessioni annullate. Nel weekend si torna in campo dopo la ripresa del torneo della scorsa settimana. La partita clou è quella di Trinitapoli dove il rinnovato audace Barletta, ripartito con cambio di proprietà e sede di gioco, attende il Manfredonia, capolista del torneo che complice il turno di riposo di domenica scorsa, fa di fatto il suo esordio nel nuovo format dell'eccellenza regionale. Con Barletta 1922, Vigortrani e Real City ai box complici le rotazioni imposte dal calendario, occhi sul città di Mola che vuole confermarsi dopo la vittoria sull'unione calcio Bisceglie nella trasferta di Vieste e sul Corato di scena sul campo del team Mortanova. Nel girone B dove il turno di riposo tocca al Massafra non si giocheranno invece a causa Covid due partite. Il Martina non si presenterà o tranto mentre il Ginosa è stato costretto dal virus al rinvio della trasferta a Lecce contro il Deghi. Ben nove calciatori e un componente dello staff tecnico sono risultati positivi al Covid e la società Ginosina ha annunciato in un comunicato che per salvaguardare la salute di staff e giocatori sta pensando di ritirare la squadra dal campionato. In calendario ci sono Grottaglie Sava, Castellaneta Gallipoli, Racale e Tomamaglie e Ugento Virtus Matino. Novità per tutti, il fischio d'inizio è fissato a partire da questa domenica alle 16.30. In forte dubbio anche la disputa di Unione Calcio Bisceglie e San Severo, un pesante lutto, ha colpito il club ospite e il calcio pugliese. Si è spento a causa delle complicanze da Covid-19 il dirigente Ninni Cannella, deceduto venerdì nell'ospedale di San Giovanni Rotondo.